La biblioteca dell'ITC Bodoni ha ospitato la mostra Sguardi sui mondiali, 80 anni di emozioni, in coincidenza con l'edizione 2010 dei mondiali di calcio. Ancora una volta, questa struttura che non dimentichiamo è, dal punto di vista delle biblioteche, la più ampia per quello che riguarda le scuole superiori della provincia di Parma ha ospitato una mostra e ancora una volta sono stati i giornali a farla da padrone. Ma non solo i giornali, infatti nella mostra si potevano vedere delle ricostruzioni molto artigianali a onore del vero di partite di calcio disputate per gioco. I giornali erano prevalentemente italiani ma non mancavano anche delle riviste straniere. Praticamente una carellata sui mondiali che parte dal 1930, la prima edizione, una edizione pionieristica vinta dall'Uruguay per passare alle due edizioni del 1934 e 1938, molto cara agli sportivi italiani quanto vedono il dubbio successo della compagine azzurra. Non furono disputate le edizioni previste in anni particolarmente difficili, il 1942 durante la guerra e il 1946, il primo anno del dopoguerra. La pace riconquistata porta tutte le nazioni appassionate di calcio a confrontarsi nel 1950 nell'edizione brasiliana che viene vinta dall'Uruguay. Si passa quindi a una fase europea in Svizzera, questa volta sono i tedeschi, la Germania Ovest a vincere una famosa finale per 3-2 sullo squadrone ungherese. Nel 1958 finalmente si afferma per la prima volta una formazione esponente di un paese che ha fatto del calcio quasi una religione, intendiamo parlare del Brasile di Pelè. Brasile che si aggiudica anche l'edizione successiva, quella cilena del 1962. Nel 1966 sono i padroni di casa dell'Inghilterra, una discussa finale con l'Unione Sovietica a conquistare il titolo. Titolo che torna nuovamente in Brasile nel 1970 nella famosa finale vinta contro l'Italia di Boninsegna per 4-1 col famoso episodio della staffetta Mazzola Rivera. Nel 1974 sono ancora i tedeschi a rivincere il titolo, mentre nel 1978 un'altra vittoria sudamericana, questa volta con il bianco-blu dell'Argentino. Nell'82, gli italiani lo ricorderanno benissimo, pur proprio la compagine azzurra ha imporsi nei mondiali spagnoli con un'epica finale sulla Germania Ovest vinta per 3-1. Nell'86 ancora una volta è l'Argentina dell'astro Maradona a riprendersi il titolo mondiale. Nel 1990 ancora una ripetizione, i tedeschi, la Germania Ovest vincono il titolo mondiale. Nell'94 il Brasile si aggiudica l'ennesima edizione della Coppa che una volta veniva chiamata Coppa Rimè. nel 1998 invece abbiamo una New Entry, questa volta la Francia. Il 2002 vede ancora un successo brasiliano per arrivare infine al 2006 con la grande vittoria dell'Italia con gli ormai divenuti tradizionali avversari i francesi. La mostra presenta anche qualcosa di curioso come ad esempio i francobolli dedicati ai mondiali e poi un qualcosa specificatamente connesso alla scuola stessa, Alitici Bodoni, la maglia donata dal numero uno della nazionale italiana Gianluigi Buffon che appunto del Bodoni fu allievo per tre anni.